Conquistano sempre di più le nostre tavole? Conquistano sempre di più le nostre tavole, c'è ancora tanta strada da fare, si spera al più presto di riuscire a ottenere anche una DOCG dell'Etna che è una cosa importante, ma attualmente in tutto il mondo per fortuna è tantissimo richiesto il vino dell'Etna e anche noi con i turisti quotidianamente riusciamo ad avere tante soddisfazioni nelle degustazioni dei vini del nostro territorio. Sono tante le cantine sull'Etna? Al momento sì, contiamo più di 170 aziende, molte hanno delle cantine proprie in cui vinificano, ma molte stanno crescendo e si stanno attrezzando con cantine proprie.